I pesci, la regione Abruzzo è preoccupata? Intanto c'è una preoccupazione che ormai dura da tempo, dura da mesi, sul fatto che naturalmente si sono verificati degli episodi che vanno approfonditi come giusto che sia. So che già lavoro l'ARTA per verificare eventuali agenti illuminanti nell'acqua, so che lavoro già l'ASL veterinaria per valutare le cause della morte dei pesci che si sono riscontrate nei ultimi giorni. Sicuramente ci sono diversi aspetti da dover analizzare. Uno, il fatto che se questa situazione di morire di pesci si è verificata per agenti tossici, vuol dire che c'è da fare un approfondimento e quindi verrà sicuramente fatto dall'autorità competenti, con l'occhio attento naturalmente delle istituzioni e del sottoscritto che, come ha detto, vigilerà su quello che accadrà. Dall'altra parte, se invece non dovesse esserci, e ci lo auguriamo, agenti tossici o cariche batteriche notevoli che hanno contribuito alla morire dei pesci, vuol dire che c'è un cristagno d'acqua. Quindi il problema, che mi sembra anche visibile, sicuramente questo lo può valutare anche un occhio non esperto, c'è il problema della manutenzione dei fiumi, che ormai prende spazio e occupa lo spazio maggiore nelle discussioni politico-istituzionali degli ultimi anni. Bisogna sicuramente intervenire. La burocrazia spesso è nemica e su questo naturalmente il mio ruolo da Presidente della Commissione di Vigilanza mi vedrà attento a cercare di spintonare in avanti le soluzioni che devono arrivare per forza, perché qui non si tratta di inventarsi chissà che cosa, ma di fare una semplice manutenzione per garantire il decorso minimo fluviale che garantisce anche vitalità alle specie viventi che ci sono in acqua ma soprattutto vuol dire acqua e ambiente salubre anche per le persone che in questi giorni godono del nostro bel mare che non possiamo soltanto descriverlo bello a parole ma anche nei fatti deve essere bello e sano. Servono fondi? La regione si deve impegnare? Io più che altro dico che più che servono fondi che sappiamo essere cosa certa ma sappiamo anche che negli ultimi mesi e anni i fondi spesi sono tantissimi probabilmente sarebbe una programmazione seria, lo diciamo da tempo, una programmazione, un'organizzazione seria perché sicuramente questa è una priorità che non può arrivare seconda o terza rispetto alla priorità che il governo Massiglio sta mettendo in questi giorni, in questi mesi e che ha messo in questi anni sul tavolo della regione Abruzzo. Su questo noi chiediamo non di accendere le luci della polemica ma su questo noi chiediamo il confronto so che c'è una sorta di orticari di allergia da parte del Presidente della regione a instaurare tavoli di confronto ma piuttosto che vedere una sorta di papocchi usciti fuori negli ultimi mesi e anni sulla provincia di Teramo di questo oggi noi parliamo, speriamo e spero che il confronto tecnico, serio, porte delle soluzioni serie.